eccoci qua ciao a tutti ragazzi bentornati qua sul canale dal vostro amico e night nuovo video per voi qua nella casa del pane balloon chiedo scusa ragazzi perché non ci siamo visti prima ma veramente oggi ho avuto una marea di cose da fare e non ho avuto un minuto di tempo per girare un video per scambiare due chiacchiere insieme a voi va bene lo facciamo adesso poco male bene c'è un po di roba di cui parlare c'è oggi inizia la diciottesima giornata lazio genoa che inizierà tra poco e poi stasera big match tra salernità inter big match mamma mia e e poi vabbè ci inoltriamo domani vediamo le possibili formazioni tra milan napoli di domenica qualche chicca e vediamo vediamo un po ragazzi facciamolo insieme fatemi ricordare una cosa iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti ragazzi fatelo siamo già in tantissimi e vi ringrazio di cuore aumentiamo aumentiamo sempre di più e poi nei commenti fatemi sapere cosa vi è piaciuto cosa no cosa secondo voi siete d'accordo dite la vostra dite la vostra così interagiamo bene ragazzi poi vi è piaciuto il video mettete anche un bel like allora partiamo su iniziamo subito col dire che hanno ufficializzato il la risoluzione del contratto tra ericsson e inter e si sapeva già qualcosa già ieri sera trappelato qualcosa oggi l'hanno ufficializzato perciò saluti e baci rimarrai sempre nei nostri cuori bla 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 buona vita ericsson gliel'auguriamo anche noi e e bene bene andiamo avanti abbiamo detto perché giustamente è successo ma lo sapevamo già allora partita di oggi pomeriggio lazio genoa adesso inizia tra un po me la vado anche a vedere perché sinceramente spero in un buon risultato del genoa secondo me deve approfittare la lazio è forte metti in parità le due in paragone le due squadre non c'è proprio storia però secondo me il genoa ha vinto magari sugli ali dell'entusiasmo qualche giocatore l'ha recuperato la lazio è una squadra che non c'è oggi c'è domani non c'è deve cercare di sfruttare magari di preparare bene la situazione sfruttare al meglio le possibilità che gli vengono date e poi deve cercare di non prendere gol speriamo speriamo perché il genoa per potersi salvare deve iniziare già adesso che siamo ancora nel girone d'andata mancano solo due partite cercare di fare qualche punticino perché veramente pochi pochi punti insomma la quota salvezza si aggira intorno ai 38 40 farli poi tutti nel girone di ritorno quelli che mancano diventa difficile deve cercare di raccogliere qualcosina adesso vedremo come come andrà a finire detto questo ragazzi una proprietà che deve cambiare l'allenatore secondo me deve avere anche la compiacenza di guardare le prossime partite del genoa perché così te lo bruci anche se tu lo lo presenti in pompa magna però ragazzi poi il genoa le partite dopo deve incontrare inter milan juve roma cioè insomma diventa difficile almeno guarda più in là aspetta un altro poi lo usano di dopo secondo me vabbè detto questo aspetteranno comunque qualche qualche acquisto a gennaio vediamo un po perché ne ha proprio bisogno il genoa però deve cercare di fare uno sforzo queste due partite di raccogliere qualcosina perché sennò diventa dura e poi stasera c'è il big match no grande big match a salerno tra salernitana inter partita senza storia adesso a parte gli scherzi io parlo del big match a parte gli scherzi una partita senza storia oramai questa salernitana è la la trottola del campionato c'è ma 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 ragazzi ma c'è anche perché non è giusto perché con tutto quello che c'è dietro anche alla situazione salernitana diventa anche c'è boh non lo so c'è chi vince poi magari qualche punticino lo strappa qualcuno poi non si sa se alla fine ma allora tirate la via dal campionato la salernitana date i tre punti a tutti quanti o levategli la chi li ha comunque portate tutto alla pari perché secondo me tutta la situazione che c'è dietro a questa storia qua compromette un pochettino le partite della salernitana e chi giocherà contro la salernitana non sto parlando di stasera evidentemente è una partita già finita ancora prima di iniziare però capite che boh secondo me c'è dietro un po un po troppe troppi casini ma questo si sapeva già dall'anno scorso quando la salernitana era stata promossa è un peccato è un peccato perché non lo meritano né i tifosi della salernitana ma neanche i giocatori stessi perché si sono guadagnati la loro promozione sul campo e per un capriccio una magagna di non so se lo titola federcato insomma era una cosa che bisognava sistemarla subito come al solito all'italiana si porta le cose sempre alla lunga e ora si è trovato in questa situazione e ora cosa fai c'è un peccato dirlo ma o la risolvi e vende ma chi è che si compra la salernitana oggi hanno creduto che entro tot l'avrebbero venduto invece così non è non ci sono neanche acquirenti boh mi sembra tutto un pochettino strano classica cosa all'italiano dove non c'è il problema bisogna sempre crearselo quando invece bisognava fin da subito boh va bene va bene ragazzi vedremo detto questo la partita di stasera la guarderemo boh non lo so diventa proprio secondo me poi anche una partita incommentabile comunque turno di campionato molto 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 favorevole ai cugini interisti perché ragazzi comunque vada per loro se dovessero vincere come come succederà stasera guadagnano perché si scontrano milan napoli domenica roma atalanta roma domani insomma comunque vada per loro va sempre bene cioè vincendo stasera insomma è tanta roba però detto questo si è passato il milan e il napoli in altre circostanze adesso giustamente è un po' una catena una ruota per tutti che gira vedremo vedremo come va a finire e ragazzi detto questo poi domani ci sarà atalanta roma bologna juve che anche quella è una bella partita il bologna arriva da un paio di sconfitte consecutivi in casa non è mai facile e la juve fa molta fatica con queste squadre qua vedremo vedremo che sarà una bella partita domani alle 18 e anche atalanta roma è atalanta roma domani alle 15 insomma due belle partite poi la sera cagliari udinese per poi arrivare nella domenica al big match il vero big match della diciottesima parte di campionato che è tra milan napoli incerottate tutte e due però dai milan oggi ha recuperato giro in maniera definitiva perché si è allenato col gruppo a differenza di ieri che si era allenato ancora parte perciò penso sia recuperato almeno per per portarlo in panchina ci sono delle novità di formazione perché molto probabilmente giocherà messias con sale maker e il dubbio è brain diaz o crunic con anche alternativa l'alternativa di maldini addirittura però forse partita in corso secondo me si inizia con o diaz o crunice ma penso più crunici che 10 perché 10 è ancora un pochettino sponpo scarico adesso si può capire se è il covid che cazzo sarà mai comunque a destra florenzi calulu sarà anche lì una una un dubbio da da sciogliere centrali saranno romagnoli e tomori e a segni stato ernandez centrocampo centrocampo tonali che si si spera tonali che si non facciamo scherzi perché perché il napoli comunque arriva con sicuro senza culibali osimen e fabian ruiz e ragazzi da milanista mi spiace perché mi spiace avrei voluto vedere una grande bella partita tra tutte e due le squadre nel nella forma più più piena di questo campionato però si stanno incontrando adesso che sono un po tutte incerottate soprattutto il napoli un po più del milan perché gli manca proprio la spina dorsale e tantarò e diciamo tanta roba rientra osimè no osimè scusate anghi sa che è un bel recupero insignia era già rientrato perciò è in condizioni giocherà col falso nuovo insomma non è che perché arriva con quei tre con quelle tre giocatori che mancano è una passeggiata tutt'altro politano a destra è rientrato il napoli gioca e poi se fanno spogliatoio come spalletti sa fare gli fa un bel lavaggio di cervello gli rende uniti insomma la sua partita il napoli se la viene a fare poi il milan ultimamente con napoli non sta vincendo da un sacco di anni in casa insomma diciamo avrei preferito che le due squadre si incontrassero in un momento diverso no quando erano tutte e due belle in condizioni giocavano un bel calcio si sarebbe vista una bella partita domani secondo me un po meno però poi mi possono smentire mi possono anche sbagliare e ne uscirà una bella partita speriamo domani scusate volevo dire dopo domani sia speriamo speriamo in bene una bella partita che ne va della bellezza di questo sport del calcio e dei tifosi sia milanisti che i napoletani e va bene detto questo aspetteremo con ansia vedremo domani in conferenza stampa cosa ci dirà di più mister pioli sulle formazioni e bene ragazzi dai ci vediamo stasera commenteremo magari ci vediamo per la parte per il dopo partita tra salernitana inter e parleremo appunto del salernitana inter e magari anche di questa che c'è oggi pomeriggio tra lazio e genoa sperando una bella vittoria di genoa bene ragazzi vi saluto vi auguro una buona serata una buona cena e a dopo e come dico sempre io ragazzi vi è piaciuto il video mettete un bel like e iscrivetevi al canale non fatevelo dire è gratis se è gratuito iscrivetevi no bene ragazzi come dico sempre io ciao